Cercheremo di capire bene come poter lavorare al meglio per il nostro territorio. Sperando che Bari ancora una volta non ci schiacci perché sta accadendo in materia di aeroporto, Bari e Brindisi, quindi speriamo che almeno l'università... No, non mi risulta che sia avvenendo questo. Per l'aeroporto? Per l'aeroporto che è classificato come adatto all'aerospazio si stanno già verificando insomma delle situazioni favorevoli per puntare su un altro tipo di... Però vedere l'arlotta privo dei voli civili è uno schiaffo al turismo, o mi sbaglio? Allora guardi, il discorso degli aeroporti è complesso, so che è bello avere vicino casa l'aeroporto per avercelo ad un quarto d'ora e poter prendere l'aereo ad un quarto d'ora, però ci sono delle normative che ci dicono che un aeroporto deve anche riuscire ad essere sostenibile da un punto di vista. Però visto che c'è usiamolo, no? Se no ci facciamo una pista da ballo, visto che è deputato anche ai voli intercontinentali. Io credo che si possa puntare su un altro tipo di economia. Quella dell'aerospazio? Quella dell'aerospazio perché potrebbe creare tutto un indore. Ben venga, ma io insieme all'aerospazio metterei i voli civili. Il turismo si fa con i voli civili, non con l'aerospazio. Allora, guardi, Lecce non ha un aeroporto, eppure ha un turismo molto più fiorente di quello di Taranto. Come se lo spiega? Ma noi abbiamo l'aeroporto, perché non lo dobbiamo usare? Perché probabilmente il fatto di essere sostenibile non consente adesso a Grottaglie di essere un aeroporto, fra l'altro non classificato. Dovrebbe avere anche una parte classificata come civile, però ha bisogno di lavori importanti. Il discorso qual è? Attivando eventualmente Grottaglie, Bari e Brindisi, che già sono due aeroporti che non hanno un bilancio fortemente positivo, andrebbero in crisi. Loro vanno in crisi. Bari e Brindisi vanno in crisi e noi cosa ci dobbiamo preoccupare? Che Bari e Brindisi non vadano in crisi e nella crisi continuiamo a rimanerci noi? No, assolutamente non è questo il discorso. Dobbiamo trovare una soluzione migliore per il territorio, perché se noi abbiamo Brindisi a 50 minuti e Bari a poco più di un'ora, basterebbe semplicemente creare una serie di trasporti veloci ogni mezz'ora. Sì, ma il problema che noi abbiamo all'aeroporto, tenerlo aperto, tenerlo chiuso, è un peccato ai voli civili, è un peccato di Dio. Nulla vieta che se un domani il turismo di Taranto esploda, magari si possa... Il turismo esplode anche con l'aeroporto, con l'aeroporto chiuso è più difficile farlo esplodere. Non è conseguenziale la cosa, è solo di Morca Lecce, che Lecce non ha aeroporto. Capito, ma noi ce l'abbiamo, se io ho una macchina non vado a Roma con l'assi, non uso la macchina. Ovviamente, il discorso però è questo, se poi non abbiamo, per far crescere il turismo, dei treni che ci portano da Crispiano a Taranto la domenica, potenziamo anche quelli. Potremmo essere oggettivi e vedere quali sono effettivamente le priorità. Comunque io dico soltanto una cosa e concludo. Siamo tarantini, difendiamo i nostri beni e difendiamo le nostre infrastrutture. L'aeroporto chiuso ai voli civili è un'assurdità. A me, sinceramente, con tutto il rispetto per Brindisi e Bari, poco interessa di Brindisi e Bari, dobbiamo difendere il nostro territorio perché già viviamo le pene dell'inferno. Guardi, io ho un figlio che va a scuola. Difendere il territorio molto spesso può voler dire potenziare anche i servizi pubblici, giornalieri. Ma una cosa non esclude l'altra. No, ma bisogna darsi delle priorità perché non abbiamo uno Stato forte che possa di colpo dire va bene, c'è tutto lo Stato. Alla fine deve pagare sempre Taranto, questo mi irrita. Non credo che paghi Taranto, non credo che passara Taranto a pagare. Anzi, abbiamo dei parlamentari che si sono spesi da tempo da questo punto di vista e che continuano a spendersi per il bene del nostro territorio.